Mister, primo match ufficiale, è stata una partita equilibrata, anche maschia. Vi hanno punito due giocate di qualità di Duffizi e Marsura? Sì, anche se sui gol secondo me sicuramente potevamo lavorare meglio. Il primo gol nasce da una palla che era in bandierina. Sinceramente poi farla uscire così e prendere il gol normale Duffizi, l'avevamo visto, è un destro. Era abbastanza scontato che avrebbe provato a rientrare sul destro per calciare, secondo me potevamo lavorare meglio. Sulla seconda era una palla dietro, la devo rivedere bene, però probabilmente eravamo posizionati male. Poi ho visto un giocatore, se non mi sbaglio, che è scivolato, ora ripeto, la devo rivedere. Però il rammarico sta proprio nei due gol che secondo me erano abbastanza evitabili. E' un po' soprattutto il primo tempo, abbiamo creato 3-4 palle, abbiamo sfondato benissimo, trovando l'ampiezza bastava mettere un po' di qualità nella palla, cercare l'uomo in mezzo, avremmo potuto essere un po' più pericolosi, almeno a calciare in porta. Nel complesso la squadra ha lottato fino alla fine, pur non avendo grossi ricambi, sapevamo di poter andare nella lunghezza della partita, di poter andare un po' in sofferenza, in panchina avevo solo under. Però va bene così, c'è dispiacere, onestamente, perché eravamo venuti qui per fare la nostra partita e credevamo di poter passare il turno. L'impegno alla base rimane l'impegno della squadra, che è qualcosa su cui poi dover costruire il nostro percorso. Molto bene sulla sinistra, David, anche Dursi, vivacissimo, tante occasioni da gol e un bellissimo gol. Sì, ma Eugenio è una punta tipica, in questo momento lo sfruttiamo in quel ruolo, un giocatore che ci dà imprevedibilità, ci attacco dalla profondità, forse ci è mancato un poco nel lavoro di raccordo, ogni tanto quando veniva fuori e poteva gestire meglio alcune situazioni di palla per darci un tempo di gioco per poter poi andare o con la filtrante o eventualmente andare sull'ampiezza. Però nel complesso si è dato da fare, ma tutti. Io non ho visto giocatori che, come dire, non abbiano avuto l'approccio giusto. Sicuramente c'è, ripeto, c'è tanto da migliorare, un po' nella qualità delle giocate finali, perché siamo arrivati comunque diverse volte e secondo me potevamo trovare la via del gol già al primo tempo, come ho detto prima, con un po' più di facilità e poi più attenzione nella fase difensiva, perché i due gol, secondo me, ora che li rivedremo con i ragazzi, ci avremo da mangiarci non solo le dita, ma forse tutto il braccio. Che ruolo vuole recitare il Gubbio nel prossimo campionato di Serie C e dove crede che possa arrivare l'Ascoli? Allora, per quanto riguarda noi, vediamo. Vediamo ora anche da quello che arriva dal mercato, se riusciamo a mettere dentro dei tasselli che possano alzare sia la qualità sia le rotazioni per avere anche la competizione interna giusta, per poter avere uno stimolo costante già in allenamento e poi vedremo che tipo di campionato definire. Noi vogliamo fare, dobbiamo far bene, vogliamo far bene, vogliamo fare il massimo delle nostre possibilità. Poi strada facendo calibreremo questo nostro massimo, decideremo cosa è il nostro massimo. Per quanto riguarda l'Ascoli, l'avevo detto già in partenza, è una squadra che già nel pre-gara ha della qualità, è vero che è una squadra giovane, ma giovani importanti secondo me, piano piano hanno messo dentro anche gente di spessore come Corazza, Varone, gente abituata che ha già vinto questo campionato, quindi secondo me è una squadra che sicuramente farà un campionato lì tra le prime.